Partita questa finale, 10.000 metri punti di eliminazione junior maschi Con Federico subito davanti, Federico all'esterno, Federico di Siracusa E suona già la campana, meno 49, un di meno 40 117, 205 Punti di meno 46 205, 68 Massimo Pierdicca attenta a un allungo con la baglietta E al prossimo passaggio ci sono i punti di meno 44 Punti, 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 punti 52, 68 Punti, punti, punti 14, 205 95 E anche Luca Zani si fa vedere nelle prime posizioni Quando al passaggio suoneva la campana di meno 41 La prima eliminazione sarà a meno 15 Punti di meno 40 Punti, 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 punti Ci sono i paesi Qua davanti Neopoldo Rosa ci sono i punti, ci saranno i punti al passaggio, punti, 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 14, 205, torna davanti Quaglietta nel giro senza punti e prova a ripartire, vuole andare via in fuga, vuole andare in fuga Gabriele Baglietta, campana di meno 35, Baglietta, Fioretti, La Rosa, Figo, Roma, Eroni, Zdani, un sestetto e ora sono i punti di meno 34, punti, 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 52, 14, il sesti, il sesti, il sesti, il gruppo spilacciato da tua forse nata di questi primi giri, quando suona la campana di meno 33, Gabriele Baglietta è davanti, la prima eliminazione la slittata a meno 9, prima eliminazione a meno 9, punti di meno 32, punti, 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 26, 69, 69, subito, 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 se ne vanno, vorranno riongarsene, Elia Marchese e Andrino Finco, vediamo se riusciranno a prendere, o ancora vantaggio, quando è suonata per loro la campana di meno 31, dietro di lui Baglietta, Zdani, guida noi il gruppo degli inseguitori, punti di meno 30, 26, 69, altri due punti per Andrea Finco, per due accella Andrea Finco, che ha trovato la sua gara, si è presentato in ultima condizione, riparte ancora Baglietta, si porta con sé Luca Zdani, quando è suonata la campana di meno 29, Gabriele Baglietta, una gara di attacco, Mattia Fioretti e la Rosa si lanciano al loro eseguimento, punti di meno 28, una caduta, purtroppo, 39, 52, campana di meno 27, per la testa della corsa, e sono in 3, vada, essersi avvantaggiati, sotto vicino, vicino, Pioetti, Zdani, Baglietta, al passaggio, punti di meno 26, 39, 14, sono andata la campana di meno 25, per i 3 puggettivi, il gruppo Poma con Romaione e con Giolo, sono tutti molto stanchi, quando punti di meno 24, punti, 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 15, 14, 39, 14, 39, non sopra la passere, Mattia Fioretti, non sopra la campana di meno 23, sono i punti di meno 22, quando c'è una giustizia, quando c'è una giustizia, l'andagli è in 2, Luca Zani non è un giustizio, non sopra la campana di meno 22, 14, 52, L'eliminazione sarà una sola, sarà a meno uno. L'eliminazione sarà una sola, è una sola, è una sola, è una sola, è una sola. L'eliminazione sarà una sola, è una sola, è una sola, è una sola. L'eliminazione sarà una sola, è una sola, è una sola, è una sola. L'eliminazione sarà una sola, è una sola, è una sola, è una sola. E' una sola, è una sola. L'eliminazione sarà una sola, è una sola. e Fioretti, 52-14, al passaggio campana di meno 15 ci sarà una sola eliminazione, però a meno di uno c'è l'ultimo giro, il gruppo è compatto, spalle, dei due fuggitivi, 14-52, i punti di meno 14, la riprova ancora Giolo, e con lui Marchese quando suona la campana per i due uomini al comando, al passaggio mancheranno 12 giri alla fine, saranno ancora punti per loro, 52-14, ai punti di meno 10. E' una bella azione, una bella azione di questi due ragazzi che stanno dando tutto quando siamo pressoché agli ultimi due chilometri di gara, di una gara durissima, punti di meno 10, 14-52, vai Gabriele! Cazzani che ora si incarica di fare la trattura del gruppo degli inseguitori quando per i primi invece suona la campana di meno 9, al prossimo passaggio saranno ancora punti per loro di meno 8, Gabriele Baglietta, Mattia Fioretti si sono resi protagonisti di una grande azione in questa finale dei 10.000 metri e sono ancora punti per loro di meno 8, 52-14. quindi non ci sarà alcuna eliminazione, la gara sarà a punti fino alla fine. e tengono un ritmo decisamente più alto del resto del gruppo, nonostante siano in due. E sono i punti di meno 6 per Fioretti e Baglietta. 14-52. Ed è l'ultimo chilometro per i due fuggitivi e facciamo sentire la voce di Senigallia per il giurale in furga, Gabriele Baglietta, Mattia Fioretti. Mancheranno quattro giri! Mancheranno quattro giri al passaggio! Forza ragazzi! Punti di meno 4! 52-14. E sarà bella anche la volata che avrà conservato un minimo di energia. Andiamo a campana di meno 3, al passaggio saranno gli ultimi due giri. Prova a portare l'andatura Mattia Fioretti. Ormai le energie sull'andare. Vai Gabriel, salto! Entrambi punti di meno 2. 14-52. Se n'è andato Mattia Fioretti. C'è Gabriel! Se n'è andato Mattia Fioretti dei patinatori almani. Il secondo, non basta! Lucchia Fioretti! E arrivi! Mattia Fioretti! Mattia Fioretti! Arriva a braccialtate! Grande! Mattia Fioretti! Ha un applauso! Lo merita anche il suo compagno di fuga! Gabriele Baglietta! Ed è giusto! Ne ha vincorso! Lucchia Zani! E va lui! Punti sul traguardo finale! Quindi punti sul traguardo finale! 14-52-39! Esatto!